amici e soprattutto amiche oggi vi presentiamo niente po po di meno che caramelle dimagranti ebbene sì direttamente da urano caramelle dimagranti no dilatanti dimagranti le dilatanti le presentiamo la prossima procio vendita allora quindi vi scherzo la procio vendita ma non ama la santa e filippa la bippa che si sniffa la dimagrante mamma mia ragazze non potete capire a roma dice che era roma mi pare a roma è vero mamma mia allora a cosa servono queste caramelle dimagranti allora andiamo a presentare questo fantastico prodotto che ripeto è direttamente da urano quindi gli alieni ce lo portano i cerchi nel grano sono adesso una certezza perché queste pillole vengono direttamente da loro perché per avere un fisico come quello della manola guardate lo de profilo cioè ragazzi potete avere preso solo queste pastiglie non prendete imitazioni solo pastiglie di manola e filippa sono le nostre sono le nostre noi siamo l'unica e fracio venditrice che provano su loro stessi i prodotti che vengono quindi aro è il numero certo e quindi per acquistare una confezione al solo prezzo di due pompelmi cioè due pompelmi ragazzi oddio mi cascano tutte due pompelmi dovete chiamare il numero 035 199 65 989 e in solo un miliardo e duecentomila ore lavorative ve le porteremo direttamente noi a casa e se siete tra le prime 15 a telefonare in omaggio avrete anche un'altra confezione che è questa una a tutti i frutti e una ai frutti di bosco vi ricordo il numero 035 199 65 989 segnatelo la nostra segreteria frociofonica è già impazzita e dalla regia me lo dicono guardano gianni gianna ma che gianni gianna gianna quanti numeri ci sono rimasti dice 10 10 oddio all'ultimi 10 all'ultimi 10 bische regalamo una cuffietta rubata al core center quando faceva centralinista quindi bische restavamo a di che le pasticche frocio dimagranti al sapore di spezzi e lamponi guardate adesso vi daremo una dimostrazione dell'effetto dimagrante ad effetto immediato guardate ragazzi ah già mi sento magra io pure una cifra mamma mia da un butto da un butto sorelle dimagrati sa perché si dimagrisce perché poi non mangiate più per una settimana avete capito da un butto ma no che si appiccica tutto sono una bontà sono anche buone da mangiare ma buonissime c'hanno questo sapore di questo retro gusto di spezzi e spezzi e te sapiccica la lingua che te sapiccica te mistica te mozzi che non t'accarna più bische mamma mia quindi oggi in versione campagnola e in versione vignotta ma non è vero le pasticche frocio dimagranti guardate bene come sono fatte ragazzi vedi vedi vedeta vadata 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 oddio vadata ma è cascata la pasticca frocio dimagrante può essere utilizzata anche come neofinto alla marylin hai capito hai capito neofinto alla marylin ragazzi però non cadrà mai a voi a me cade perché oppure io so che noi ci vedono da tutto il mondo da esattamente tutto il mondo e se siete indiane lo potete pure mentre brava bravissima amica perché questo separa separa la cellulite la cellulite par grassa vedi capito gianna gianna quante ne mancano gianna gianna non risponde gianna fino ad infilate questa al culo gianna niente gianna non ci risponde secondo me ne sono rimasti pochissime 0 3 5 1 9 9 6 5 9 8 9 non ce lo imparerà mai tarda chiamate 0 2 5 1 9 1 9 9 6 5 9 8 9 per ordinare subito le ultime cinque scatole il regalo anche la cuffietta che ho rubato art school center quando facevo la centralinista ragazzi quindi ne comprese c'è stanno pure caramelle che se siamo magnate noi atti sì così ci potete clonare perché qui c'è la nostra saliva c'è un mio capello guardate ragazzi un mio capello che solo il mio capello vale quanti pompelli vale un centinaio un centinaio almeno un miliardo ma io non ho capito un capello della manola perché clonare la manola è il sogno di tutte le transe ragazzi di tutte le travestite quindi bamba alle ciancio ciancio alle bambi alle bambi e quindi me gusta la banda ragazzi avviciniamoci facciamoci vedere quanto siamo dimagrite guardate c'è siamo già dimagrite non ce vedi allora ragazzi terminiamo qui questa approccio vendita che dobbiamo passare la pubblicità gianna sono finiti ha detto gianna che sono finiti io ci sto andando a rota dice che sono finiti dice sebara sebara ti scherzi sebara quindi amici le caramelle frocio dimagranti che te fanno dimagrite e te fanno ride amiche ciao a tutti chiamateci 035 199 65 989 lasciate il messaggio segreteria pro giovanica oddio sta a morire raga sta a morire sta a morire ciao vi scherzi grazie a tutti